Ragazzuoli scusate scusate ma la diretta che dovevo fare la farò la prossima volta se ci sarà perché ragazzi c'è la partita del Milan su Dazon e io ho una connessione abbastanza limitata perché ragazzi ho Lincoln e va bene la connessione alla sera ho poca connessione comunque allora ho paura che si blocca con la partita su Dazon perché Dazon usa la connessione allora ho preferito rinviarla comunque ragazzi ci sarà ci sarà comunque arriviamo al sodo di questo video la Juve la Juve ha perso la Juve ha perso no non ci voleva rinviato no rinviata la festa ragazzuoli periferia i ventina e non buonasera a tutti voi allora prima di iniziare col video iscriviti al canale mettete mi piace commentate qui sotto e stop per adesso allora ragazzi la Juve ha perso due a uno però 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 c'è a dire una cosa prima di tutto non sto qui a criticare Allegri non stiamo lì a criticare Allegri perché ha fatto giocare tutta una serie di giocatori della primavera e perché non ha fatto un bel gioco allora ha fatto bel gioco a parte che io non ho visto tutta la partita perché perché mi annoiavo mi annoiavo stavo per prendere sonno ragazzi non è stata una partita come al solito non è stata una partita convolgente da parte dell'Ariventus perché sappiamo che ovviamente siamo impegnati per martedì con il ritorno con l'Ajax in casa nostra a Torino allora per far riposare tutti i titolari il nostro amichetto Allegri ha fatto tutta una serie di rivoluzione di giocatori e ha fatto giocare tutta la primavera però come al solito non abbiamo gioco e questo si sa non abbiamo non abbiamo gioco abbiamo sempre quel solito quel solito gioco lento lento appassito sempre quel gioco statico ma pazienza ormai ragazzi io lento non dico più niente con questo allenatore perché ormai si è detto in tutte le salse però non sto qui a criticare niente perché questa partita ragazzi è solo una sconfitta è solo una sconfitta tanto per di contenimento tanto per far felice la la spalle lento 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 non giocherà penso De Sciglio che ho sentito visto che ha giocato oggi non penso che lo metterà in campo martedì speriamo niente Ken come al solito ma come al solito come al solito come al solito perché bisogna che Allegri lo mette in campo solo contro Aspal El Chievo il squadrette picque non lo so va bene ha segnato anche oggi che non so se era deviazione o era proprio uno schema da parte sua che ha proprio ha spinto il pallone in porta così non lo so se gli è venuto in mente di spingere quel pallone non so come 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 l'ha fatto come l'ha fatto ragazzi Ken è sempre decisivo ogni volta ogni volta che lo mette in campo è segna meglio meglio che paio che paio allegro non sapeva di avere un fenomeno in campo vabbè vabbè mettiamo vediamo cosa che fa qua vediamo vediamo ma speriamo no c'è la pal segna ma c'è la pal segna ma c'è la pal segna perché è più che ti metti dentro sempre più che ti metti dentro Ken se no col cavolo che il segna c'è anche giovane ragazzi facciamo giocare questo giocatore qua che è il futuro della Juve è il vice Ronaldo eh perché Allegri non sapeva non sapeva di avere un un fenomeno in campo non sapeva di essere di avere un giocatore fenomeno in campo no va bene per fortuna che ha messo Ken per fortuna però dai ha fatto il suo non ha fatto non ha non ha non ha brillato come le altre partite ragazzi perché non sta partita qua era su il passegava come al solito non e poi la spalla anche un po' giudicchia giudicchiata ha giudicchiato un po' meglio ha gestito bene la partita ha anche corso ha fatto un gioco di contenimento anche la spalla se abbiamo se abbiamo preso anche il gol da floccari da floccari va bene va bene va bene perché bisogna che si perché abbiamo sempre il gol e in più abbiamo perso chi ragazzi non ho visto chi ha segnato però ragazzi dai dai non 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 piangiamo perché abbiamo perso rincomiamoci per la vittoria no per la vittoria per la sconfitta bene succede 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 a parte che ormai il campionato l'abbiamo vinto cioè anche se abbiamo perso pazienza si rifaremo la prossima volta e va bene ragazzi però la partita più importante è martedì il ritorno il ritorno e come 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 lo dico come dico io sempre la vedo brutta la vedo brutta perché con il pareggio è molto difficile è prevedibile è molto imprevedibile è molto scivolosa questo pareggio è molto scivoloso questo pareggio quindi attendiamo con ansia martedì ho già sono già in in fremmento va bene niente ragazzi abbiamo perso pazienza si rifaremo la settimana prossima tanto abbiamo tempo per festeggiare va bene e niente ragazzi per questo video penso che penso di aver detto chissà vabbè un piccolo riassunto della partita eeeh di bala quello che è di bala può reto cosa ha avuto che fassa ha un calo ha un calo netto ragazzi per me lo so lo so ben detto mai non è più da juve pazienza no pazienza mi dispiace per lui perché all'inizio di bala si pensava questo questo gran giocatore che si che lo paragonavano anche a ronaldo ah no a messi scusate a messi le prime volte che segnava sempre però ragazzi sarà la fine di un secolo anche lui però però ci sono voci che forse va all'inter ma ma è meglio anche per lui perché 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 almeno ha un po' di spazio in più perché visto che c'è ronaldo di bala non ha più non ha più tanto spazio va bene ok va bene sai speriamo speriamo bene per di bala però secondo me il suo ciclo è finito con la juventus almeno per me questo è il mio pensiero va bene ragazzi vediamo martedì cosa facciamo vi rimando a un prossimo video mi dispiace per per la live mancata sì ci mi rifaccio la prossima volta perché ragazzi sì avevo fatto una prova per per vedere sì per per parlare un po' della partita così con un iscritto molto molto bravo iscriviti a Luca Totti che è un bravo youtuber e mi raccomando se volete iscrivervi anche anche da me va bene sono un piccolo youtuber anch'io non è che sia sto gran va bene va bene ragazzi ci sentiamo la prossima volta iscriviti al canale mettete un mi piace commentate attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti